Non ci mettere la mano dentro, io devo berla quell'acqua Buongiorno, buongiorno, buongiorno E come sta il mio piccolo malato? Sto bene, grazie dottore, lo dicevo poco fa il mio amico Lole Ha visto come sta meglio ora? Grazie signora 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 Dorotea, porti questa al numero 22 Sì signora Quanto tempo resterò ancora qui? O almeno un altro paio di mesi Ah benissimo, questa è la prima volta in vita mia che posso ripossermi in centa pace A presto metti di giù Mettimi giù Idiota Aiuto, aiuto! Tirami giù, mi si stecca la gamba! Aiuto, non mi lasci andare! Aiuto, stieni qui! Tirami giù, tirami giù, ti prego! Aiuto! Io mi stai giù! Qui, qui! Non mi lasci! Aiuto! Aiuto! Non riparte più! Aiuto! Mi aiuti, mi aiuti! Mi aiuti! Aiuto! Mi aiuti! Mi aiuti! Grazie! Oh! 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 Tira su il letto, presto! Guarda! Lei mi ha strappato i pantaloni! Ma dottore Lei esca Fuori dai piedi Sono inferocito In quanto a voi andatevene tutti e due di qui immediatamente Avete capito?